e no dai, chi si fa che caso li apughiamo gra dai e chi da in auto rinforzo le vado dai e che ha крoman eastern la fanda che fa che cazzo fa la視u properly e guardanti con i framansta e fai che ci sono i franzi e chi si fa che caso li apughiamo gra dai e chi tra l'altroensions parle dai e chi si fa che qua èmmeno è un'ol askeda Ma che vuoi passii laktion? ma idea io Grazie per la visione!